Bene amici, questo video è un video di apertura di una nuova collana dove ho deciso di presentarvi puntata dopo puntata, video dopo video, il mio protocollo. Ve lo presenterò lentamente e ve lo spiegherò nei particolari e faremo una lunga serie di video. Ci siamo anche un po' attrezzati e lavoriamo ad alta definizione perché stiamo pensando al futuro. Io sono Arturo Villa, sono nato nel 1960, nel luglio del 2012 ho scoperto di avere un carcinoma epatico scarsamente differenziato al settimo segmento epatico, nel novembre del 2012 ho resezionato il mio carcinoma epatico che fortunatamente era situato in uno dei pochi lobby del fegato qua e dove è possibile operare. Il fegato è difficilmente operabile perché al centro del fegato passano tutte le vete, è veramente un macello. Sono stato fortunato perché l'ho trovato per sbaglio perché subitamente il mio cancro non dà sintomatologia per cui di solito quando scopriamo che abbiamo l'epatocarcinoma lo scopriamo perché abbiamo un scompenso epatico cioè nel senso che il tumore si è sostituito almeno in due terzi del nostro fegato e quindi siamo quasi sempre spacciati. Quindi io sono un uomo fortunato, un uomo che ci è donato a Dio e un uomo che ce la sta facendo. Dicevo nel novembre 2012 siamo stati operati e ho resezionato di carcinoma epatico scarsamente differenziato. Nel gennaio 2013 tramite intervento istologico abbiamo scoperto che il mio carcinoma epatico si era metastatizzato a tutto il sistema linfatico del mio tronco. Io sono pieno di metastasi. Nel gennaio 2013 per la medicina convenzionale e per le statistiche che sono andato a cercare nel web io ero un uomo morto. Così ho incominciato ad andare a letto pensando di dover morire, così ho deciso di rifiutare la chimioterapia perché ho deciso di morire dignitosamente e mentre mi preparavo a morire dignitosamente mi sono messo a studiare per vedere se c'è il modo di trovare una strada alternativa che mi aiutasse a vivere e a morire dignitosamente. e ho preso questa strada che è la strada meno battuta del bosco e sta succedendo che invece di morire io sto guarendo il mio cancro e lo sta raccontando nel web. E la mia faula, che è una faula stupenda, sta diventando la faula più bella del web italiano. Perché è tutta documentata? Perché ogni giorno racconto i miei momenti belli, i miei momenti tristi, i miei momenti di gioia, i miei momenti di anno del goscia, sbaglio, faccio bene, rispondo bene, rispondo male, chiedo scusa, è tutto un percorso che faccio insieme a voi e quindi questo video, questa serie la realizziamo proprio per spiegare come io guarisco il mio cancro. e io non voglio sostituirmi ai medici, io non sono un medico e molti di voi mi chiedono consigli sulle loro patologie ma io mi rifiuto continuamente di dare consigli sulle patologie altrui perché io non sono un medico, io non voglio sostituirmi ai vostri medici, la mia missione è quella di salvarmi la vita e mentre mi salvo la vita documento tutto nel web vi faccio partecipi dalla mia fantastica faula qui mi fermo, anzi devo dirvi di più proprio devo mettere un disclaimer devo avvisarvi che voi non dovete assolutamente fare come faccio io perché io sono un pazzo che ha deciso di avvalersi di un diritto internazionale che è quello di curarsi come meglio credo ma questo è un diritto che esercito su di me voi non dovete assolutamente prendere il spunto da me voi dovete sempre rivolgervi rivolgevi ai vostri medici di famiglia alle strutture abilitate a seguire la vostra salute perché io non sono un medico di nessuno se non il medico di me stesso e lavoro ogni giorno per guarire il mio cancro e non posso, veramente non posso portarmi in casa il cancro degli altri allora c'è stata un po' di polemica c'è stata un po' di polemica perché tutti mi tirano per la giacchetta perché tutti vogliono attribuire la guarigione del mio cancro all'alimentazione vegetariana ma io non sono qui per tirare la volata a nessuna corrente né a politica, né alimentare, né di pensiero io sono un uomo libero non appartengo a nessuno io appartengo a Dio perché quando ho deciso di morire ho detto Dio mi dona a te vediamo cosa succede Dio mi ha preso per mano mi sta portando in giro e mi sta aiutando a superare questo momento difficile insieme a voi quindi mi fermo non dovete assolutamente pensare che io abbia una missione che sia diversa era quella di salvarmi la vita la mia missione è salvarmi la vita e mentre mi salvo la vita vi spiego come me la salvo qui finisse la mia mission io sono una testimonianza penso che sia la testimonianza più bella che esiste su questo pianeta perché non credo che esista nel pianeta un'altra storia come la mia dove un ammalato di cancro di un cancro che è definito da tutta la medicina convenzionale inguaribile guarisse e mentre guarisse racconta tutto alla gente io penso di essere l'open source più open source di tutti gli ammalati di cancro che guariscono con le cure alternative tutti i documenti che certificano la mia guarigione sono a disposizione di tutti nel mio sito www.carcinomepatico.it che è un sito bellissimo e tutti possono andare a visionare sono firmati a vidi matti dall'istituto che mi segue da un anno e mezzo l'Iris di Meldola e firmati i vittimati dall'oncologo che mi sente da un anno e mezzo e che da una Andrea è casa dei Gardini che da un anno e mezzo scrive che io sto guarendo il cancro con le cure alternative esistata una polemica perché io devo raccontare la verità allora la verità è che secondo me io non so cioè io sono diventato vegetariano dal domenue scorso dopo la terza attacca che confermava che io sto guarendo ho fatto un assento ho detto perché la mia filosofia è abbracciare a 360 gradi è un lavoro a 360 gradi lo ripeto in continuazione per guarire il mio cancro io ho preso la strada meno battuta del bosco ma la strada meno battuta del bosco non ha una ricetta immediata non è fatta di piccole ricette secondo me ma è fatto di un lavoro a 360 gradi io sto lavorando a 360 gradi compreso nella mia mente nel mio carattere nel rivoluzionare la mia alimentazione ma soprattutto soprattutto io utilizzo integratore questi con questa pazzia qui che a qualsiasi altra persona potrebbe sembrare una pazzia io voglio che voi tutti sappiate che io sto guardando il cancro grazie a questa roba qui perché questa è la verità e io non ho nessuna altra missione se non quella di farvi vedere come sto guardando il mio cancro poi io sono anche diventato vegetariano però io non credo che il solo fatto di mangiare vegetariano possa guarire il mio cancro io non credo che il fatto solo di bere acqua a cancro possa guarire il mio cancro io non credo che il fatto solo di farmi succhi verde di due litri di succhi verde al giorno possa guarire il mio cancro io penso che tutte queste cose insieme mi stanno aiutando insieme alla mia mente a guarire il mio cancro io ho questa missione qui e nessun'altra missione sono anche stufo di essere tirato dalla giacchetta e di essere criticato alcuni mi hanno detto fai la pubblicità agli integratori perché li devi vendere io non ho mai venduto un integratore in vita mia io gli integratori li ho sempre pagati tutti questi integratori qui signori tutta questa roba qui che vedete io l'ho pagata l'ho sempre pagata queste sono tutte le fatture che io sto tenendo a conto da novembre qui c'è adesso non ve la posso far vedere che qui ci sono gli indirizzi ci sono i miei indirizzi qui ci sono tutte le mie fatture guardate qua io sto tenendo a conto perché quando sarò marito mi rivolgerò al tribunale e chiederò il rimborso di tutto quello che ho speso queste sono tutte fatture della roba che io compro io non ho mai venduto un integratore in vita mia forse inizierò a venderlo anzi forse vi indirizzerò a una persona che li vende perché io ho diritto come tutti quanti a dormermi da vivere perché io dal novembre scorso dal novembre del 2013 siccome l'ho stato mi abbandonato siccome per colpa mia sono rimasto senza soldi dal novembre del 2013 tutte le cure tutto quello che faccio le bollette elettriche le spese condominiali la sicurazione della mia macchina tutte le cure che faccio sono pagate dai contributi curativi di voi del web che mi state dando una lezione di vita di generosità infinita quindi io non ho mai venduto un integratore quindi gli integratori li uso per guarire il mio cancro e in questa lunga serie di video piano piano un video dopo l'altro vi spiegherò perché li prendo come li prendo quali sono i loro effetti perché secondo me è giusto prenderli insomma cercherò insieme a voi di fare un cammino video che probabilmente alla fine raccoglierò in un cd room in un cd room anzi io sono un tico sono rimasto ancora in cd room e e poi dopo lo distribuiremo perché la mia unica missione è che la gente deve sapere chi sa può scegliere chi non sa subisce io vado d'accordo con tutti io mi siedo a tavola con i mesetariani io mi siedo a tavola con i carnivori io mi siedo a tavola con quelli della Juve io mi siedo a tavola con quelli del Milan io mi siedo in tavola con quelli di sinistra con quelli di destra io sono amico di tutti e sono un sanitariano e ho fondato l'IRCA che è l'istituto per la ricerca del cancro di Arturo Villa che secondo me è il miglior istituto di ricerca sul cancro che esiste in Italia io fino fino a prima di ammalarmi di cancro versavo i soldi alle associazioni che dicevano di fare ricerca sul cancro non verserò mai più una lira a nessun istituto che fa ricerca sul cancro perché adesso so come fanno ricerca sul cancro perché la fanno come i miei amici dell'Istituto di Miedola che hanno una persona come me dicono che fanno ricerca sul cancro hanno una persona come me che da un anno in mezzo guarisse con le cure alternative non mi hanno mai chiesto perché io sto guarendo e come faccio a guarire non sono interessati a capire altre strade che non siano quelle dettate dall'altro ma a noi non ce ne frega niente loro hanno il diritto di fare quello che vogliono a noi siamo stanchi anche di puntare i diti noi vogliamo solamente far vedere al mondo che esistono strade alternative che fanno vivere invece che morire e quindi questo qui è lo studio nuovo che noi oggi inauguriamo io lo dico non sono nel web perché c'era tutti sono nel web per raccontare per fare testimonianza ho anche un caratteraccio sono anche un po' presuntuoso sono anche un po' arrogante ci sto lavorando sopra però quando venite nelle mie pagine io dico in casa mia uno un giorno mi ha detto tu non sei in casa tua sei in casa di facebook allora l'ho bannato poi gli ho scritto ho detto siccome non sono in casa mia adesso vai da facebook e vivi di sbannarti quando entrate in casa mia nelle mie pagine che facebook mi mette a disposizione è inutile che venite a fare polemiche a me non interessa la polemica io cerco l'amore faccio testimonianza se voi avete degli altri se appartenete a delle correnti politiche se voi appartenete a delle correnti alimentari se voi appartenete a qualsiasi corrente a me non me ne frega niente basta che non venite in casa mia a tirarmi per la giacchetta io come devo fare a spiegare alla gente il mio messaggio lo so e mi riservo il diritto di farlo come cavolo mi pare a me chiaro? non è polemica assolutamente perché io nel mio percorso ho scelto di amare e di essere migliore è un lavoro che porto avanti ogni giorno cerco di migliorarmi è uno sforzo grandissimo che faccio e mentre faccio questo ogni giorno lavoro per portarvi la mia testimonianza e farvi capire cosa ho scoperto del corpo umano e come io cammino verso la guarigione utilizzando queste cose qui le mie macchine mentre lo do che poi mentre faccio tutto questo scopro che DXM secondo me è l'azienda che produce il minero piano d'erma lucidum che fa parte del mio pilastro di uno dei 5 pilastri del mio protocollo scopro piano d'erma lucidum divento consumatore che è un derma lucidum poi scopro che DXM mi dà la possibilità di essere rivenditore e io divento rivenditore dei DXM io mi compro acqua canne perché ritengo che sia la macchina lo ionizzatore d'acqua migliore che esiste sul mercato perché è l'unica macchina che ha le certificazioni medicali poi scopro che io posso anche venderla e mi metto a vendere anche quella più avanti si scopro più avanti inizierò a vendere i prodotti della Solgar perché io credo che i prodotti della Solgar siano gli integratori migliori che esistono sul mercato ma io consumo un po' Solgar da un anno e mezzo la Solgar non mi ha mai regalato un solo barattolo dei suoi prodotti me li sono sempre comprati con i miei soldini anzi con i vostri soldi con le vostre donazioni e io non finirò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate per me e il minimo che posso fare è portare questa testimonianza nel web e faccio tutto gratuitamente da Lirca di Cesena fordare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.